La buonasera e gli studenti benvenuti all'elezione italiana 62 e adesso sono le 6 e 2. Scrive i problemi di matematica seguenti. Una domanda quanto fa 189 per 92 fa 17388. Una domanda quanto fa 248 per 71 fa 17608. Una domanda quanto fa 361 per 48 fa 17328. Una domanda quanto fa 423 per 42 fa 17766. Una domanda quanto fa 673 per 26 fa 17498. Una domanda quanto fa 722 per 24 fa 17328. All right. And now it is time to present some nuove parole di vocabulario. Let me say that again. We're going to present to you some nuove parole di vocabulario. Alto means tall. That's an adjective by the way. Mezzo means middle. Pastone means stick. Burro means butter. And di totomila means 18,000. Ascolti e ripeta. Io ho un bastone giallo di burro. E adesso sono le 5 e mezzo. Signore Armando Torrogrosa è seduto su sedia piccola. No, il teatro non è dietro alla banca di mattone. Sì, il caffè è nero. Signora Camilla Aratore dice il telefono popola, il libro aranzione, la pene nera, la matita giallie, e le foglie di carta bianca, le chiavi giallie, la lampada aranzione e la radio nero sono sul tabolo lungo. Signorina Maria... Sorry. Signorina Maria... I can't read my handwriting half the time. Signorina Maria... Mariano dice la tenda di finestra è davanti alla finestra. Lo zio dice figlio mio chiude la porta. La zia ha del donato. Mollie mia va in ufficio in Tassi, Giallia. Sorry, let me try that again. Mollie mia va in ufficio in Tassi, Giallio. Mollie mia va in ristorante mattone. I cucini morbidi e lenzuoli verdi sono sul tabolo morone. Il quadro grande e la menzola piccola sono sul muro bianco. Il cassetone è sul pavimento. Madre mia ha un abito da donna azzurro. Padre mio ha cinque camicie bianche. La camicetta di figlia mia è rossa. La gana corta è popora. Dove è Mario Cantadino? La statua grigia è davanti alla scuola di mattone. Queste sono le nuove parole di vocabulario. Camilla Sarto ascolta la musica. Aldo Torragrossa va in casa. La professoressa cammina nell'ala. Victoria Mariano apre la tenda di finestra. Missed that one again. Victoria Mariano apre la tenda di finestra. La statua bronza è davanti al negozio. La figlia mia ha due gatti e un cane. Enrico Cossino è alto. Francesco Mariano ha un bastone di bioro. Figlio mio ha 657 US dollari. Adesso sono le due e mezzo. Scriva i problemi di matematica seguenti. Una domanda quanto fa 149 per 126. Una domanda quanto fa 262 per 69. Una domanda quanto fa 262 per 69. Una domanda quanto fa 262 per 69. Una domanda quanto fa 348 per 54. Una domanda quanto fa 613 per 30. Una domanda quanto fa 824 per 22. Duei, du know what to do. I'll tell you more in the next lesson so stay tuned.